Due settori per sette corsi di studio, certificazioni linguistiche, informatiche e nautiche, varie attività scolastiche ed extrascolastiche per una formazione completa ed innovativa, supportate dalle più nuove tecnologie. Scegli l'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Leonardo da Vinci di Milazzo, l'istituto che la Fondazione Agnelli, con l'indagine Eduscopio, ha classificato come primo istituto tecnico della provincia. Settore Economico, Amministrazione, Finanze e Marketing Una scuola che mi permetta di gestire il bilancio di un'azienda e svolgere attività di marketing per diventare dirigente di una multinazionale Sistemi Informativi Aziendali Una scuola che mi permette di gestire i sistemi informativi aziendali E valutare e scegliere software applicativi Iscritti a Carinci Turismo La scuola che mi insegna a comunicare in più lingue E che mi permette di viaggiare, conoscere il mondo e valorizzare il patrimonio artistico e culturale Iscritti a Carinci Settore Tecnologico Trasporti e Logistica Nautico La scuola che mi fa navigare in un mare senza confini In una continua sfida con cui misurarsi Iscritti a Carinci Costruzioni, Ambiente e Territorio Una scuola che mi rende protagonista del lavoro in campo edilizio E costruire in sicurezza tutelando l'ambiente Iscritti a Carinci Grafica e Comunicazione La scuola che esalta la creatività grafica e visiva E mi specializza anche come grafico pubblicitario Iscritti a Carinci Informatica e Telecomunicazione La scuola che mi insegna ad elaborare e applicare tecnologie web E che mi mette al centro dell'innovazione tecnologica Ti aspettiamo per l'Open Day Avete ascoltato i nostri alunni Che vi hanno illustrato tutti gli indirizzi di studio Scegliete con il cuore Dopo cinque anni se scegliete questa scuola Potrete mettervi nel mondo del lavoro O continuare all'università Mi piaceva comunque farvi vedere Gli ampi spazi sportivi attrezzati Che vi consentiranno di fare diversi sport Bene, vi aspettiamo Scegli l'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Leonardo da Vinci di Milazzo Dove comincia il tuo futuro